Il diritto all'acqua è determinante per la sopravvivenza delle persone e decide il futuro dell'umanità che rischia di andare incontro a un nuovo conflitto. È uno dei passaggi chiave dell'intervento pronunciato da Papa Francesco al seminario Il diritto umano all'acqua, promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze. Partecipando ai lavori della Due Giorni, il Pontificia ha chiarito che il diritto all'acqua sicura e di qualità è anche un dovere con l'acqua. Ogni Stato infatti dovrebbe garantire la ricerca di soluzioni effettive davvero capaci di superare gli egoismi che impediscono l'attuazione di questo diritto vitale per tutti gli esseri umani. Le cifre che le Nazioni Unite rivelano sono sconvolgenti e non possono lasciare indifferenti. Mille bambini muoiono ogni giorno a causa di malattie collegate all'acqua e milioni di persone consumano acqua inquinata. Papa Bergoglio ha indicato come prioritaria l'educazione delle prossime generazioni a questa grave realtà e ha ricordato che il rispetto dell'acqua è condizione per l'esercizio di altri diritti umani nel contesto di una cultura della cura e dell'incontro.